tra i mille mila kickstarter del 2017 fa capolino questo euro game tutto italiano targato tabula games barbarian di invasion si il titolo è in inglese perché faceva più figo ma gli autori zizi chiacchiera e ci accasassi capirete bene sono dei nostri però il titolo non mente perché da 1 a 4 come signori della guerra ci pone a capo di clan barbari pronti ad invadere le terre di fenian per costruire edifici forti del favore degli dei e del comando dei capoguerra al nostro soldo si tratta di un gestionale di risorse ma anche di truppe con una meccanica di piazzamento lavoratori che qui si fanno chiamare campioni a muovere il tutto quelli che illustreremo sono i componenti base della versione iron del kickstarter e poi c'è questa la torta nuziale va che belli anche se le intenzioni di lui vediamo come va usata lo spazio principale sul tabellone è quello destinato al pezzo forte il vulcano è costituito da anelli concentrici e in ciascuno è incastrato un cartoncino diviso in settori questa è la disposizione iniziale fatta in modo che ogni settore sia collegato a due dell'anello successivo sulla linea temporale trovano posto demoni e celebrazioni come raffigurato tre celebrazioni scoperte vanno negli spazi dispari e tre demoni in quelli pari le altre carte restano esterne al tabellone si tratta di edifici capoguerra e divinità ne riveliamo rispettivamente 4 2 e 2 a costituire l'area di gioco sul lato opposto la mappa fronte retro è divisa in cinque isole e ciascuna ospita una tessera prima conquista ogni isola è divisa in regioni e ad eccezione della regione di partenza raffigurante un vulcano su ciascuna distribuiamo a caso un gettone fazione solo in due giocatori ignoriamo le regioni col 3 più e 4 più e in tre solo quelle col 4 più ai quattro colori delle regioni corrispondono i quattro mazzi regione a faccia in giù accanto alla mappa nel proprio colore ognuno dispone di una scheda giocatore e di basette in cui incastrare i quattro campioni raffigurati sulla scheda e gli otto vessilli i set di pedine risorsa e truppa vanno sui relativi tracciati ad indicarne le quantità tutti partono con tre risorse per tipo e due truppe per tipo sempre nel proprio colore i giocatori impidano casualmente uno dei propri dischi sulla prima casella del sentiero dell'onore partendo da chi è in fondo e procedendo verso l'alto ciascuno poi piazza un altro disco sulla seconda casella di uno dei tracciati conoscenza barbarica o conoscenza tattica oppure due dischi sulla prima casella di due tracciati a scelta l'ultimo componente del colore e il segnapunti che parte dallo zero del tracciato dei punti dominazione che circonda il tabellone prima di iniziare però ciascuno pesca e conserva scoperta una carta divinità guadagnando subito questi punti di dominazione la partita dura al massimo sei ere e ciascuna è composta da queste fasi saltiamo la fase mantenimento della prima era per approdare direttamente alla fase azioni lungo il sentiero dell'onore a parità di casella chi è in cima ha sempre la precedenza dunque in prima era si parte dal blu e si procede verso il basso nel proprio turno il giocatore deve piazzare il suo primo campione su una casella dell'anello centrale e può eseguirne l'azione prima di cedere la mano ecco tutte quelle possibili le opzionali possono essere eseguite prima o dopo la normale azione il blu sceglie di acquisire risorse come raffigurato ottiene un cibo un legno e un ferro sei e il limite di ciascuna sul sentiero dell'onore segue il giallo che costruisce un edificio dall'area di gioco sceglie quello il cui costo è di tre pietre per piazzarlo di fronte a sé se ne ha già quattro deve scartarne uno per collezionare il nuovo edificio il verde si affida alle track della conoscenza per ogni papiro blu indicato dall'azione il giocatore può avanzare di un passo lungo una delle track della conoscenza barbarica o piazzare uno dei propri dischi sulla prima casella se non si è ancora presenti il verde sceglie la track della conoscenza economica per occupare la prima casella cibo d'ora in avanti tutte le volte che otterrà cibo da un'azione e guadagnerà uno aggiuntivo avanzando qui in seguito a questo bonus aggiungerà anche quello per il legno e così via qualsiasi sia la track raggiungere per primi l'ultima casella vuol dire guadagnare questi bonus sulla conoscenza economica il primo ad arrivare qui guadagnerà due punti dominazione per ogni tristi cibo legno e ferro posseduti il secondo ne guadagnerà uno allo stesso modo ogni papiro giallo da un punto di conoscenza tattica che il verde spende per iniziare la conoscenza della fazione a speedian chiude il primo turno il rosso che su quest'azione può invocare una divinità o un capoguerra il rosso sceglie una delle divinità dall'area di gioco paga una risorsa a scelta guadagna un punto dominazione e la piazza di fronte a sé se ne ha già tre ne scarta una per far posto alla nuova prima o dopo aver posizionato un campione nel suo turno un giocatore può pregare una divinità o sacrificare un capoguerra in questo caso è dopo la sua azione che il rosso prega la divinità che possedeva già inizio partita la ruota per indicarne l'unica sua attivazione per questa era e ne attiva l'effetto in basso in questo caso può guadagnare una risorsa a scelta e un punto dominazione oppure può ruotare di una sezione l'anello su cui ha piazzato in questo turno sceglie di ruotare in senso anti orario l'anello del suo campione in modo che il suo settore venga a contatto col settore successivo la mano torna al blu per il secondo turno durante il quale tutti piazzeranno un secondo campione sull'anello intermedio in particolare il blu dovrà scegliere una delle quattro caselle azione che figurano nei due settori collegati al primo campione il blu opta per la stessa azione precedente del rosso ma stavolta per invocare un capoguerra ne sceglie uno dall'area di gioco ne paga il costo di due ori e lo piazza di fronte a sé se ne ha già tre ne scarta uno per far posto a quello nuovo il guadagno immediato dell'invocare un capoguerra è in punti onore il blu avanza il suo disco sul tracciato dei due passi raffigurati avendo oltrepassato una pietra miliare ne guadagna subito il bonus un cibo un legno e un ferro il disco potrà anche arretrare in partita ma il bonus di ogni pietra miliare si ottiene solo al primo passaggio dopo le azioni di giallo e verde anche il secondo turno è chiuso dal russo che qui raddoppierà l'effetto della casella azione del suo terzo campione apre il terzo turno ancora una volta il blu che deve piazzare il campione su un'azione di un settore dell'anello esterno collegato al secondo sceglie l'azione di scambio che gli consente di spendere due pietra per ottenere tre truppi a scelta sarebbe la sua ultima azione di era già chi la fase azione normalmente termina quando tutti hanno agito con tre campioni ma come già accennato prima o dopo la sua azione il blu può sacrificare un capoguerra prima di scartarlo in fondo al relativo mazzo ottiene l'effetto in basso a destra cioè un punto dominazione ed il diritto ad un quarto campione da piazzare in un settore periferico collegato a seguire tutti hanno terminato le loro azioni col piazzamento del terzo campione dunque solo il blu a questo quarto turno bonus qualora un campione non avesse accesso ad una casella libera il giocatore salterebbe il turno guadagnando in cambio due punti dominazione ma non è il nostro caso il blu può guadagnare una di tutte le risorse è tempo di fine era tutti recuperano i propri campioni poi sempre seguendo l'ordine sul sentiero dell'onore ciascuno risolve per sé la carta più a sinistra scoperta sulla linea temporale quella di fine prima era è una celebrazione che dà ai giocatori la possibilità di scegliere tra le prime due offerte il blu sacrifica uno dei suoi punti dominazione per ottenere due ori è possibile scendere al di sotto dei zero punti segue il giallo che ne sacrifica addirittura tre in cambio di cinque risorse a scelta il verde invece scegliegli non offrire nulla in questo caso addirittura terza opzione tre punti dominazione esaurita per tutti la celebrazione si gira i restanti edifici divinità e capoguerra scoperti nell'area di gioco si scartano per pescarne nelle stesse quantità iniziali per la nuova era in ultimo va risolto l'evento finale sotto la celebrazione l'anello intermedio va ruotato di due posizioni in senso anti orario la seconda era inizia con la fase mantenimento le divinità e vedremo tra un attimo i capoguerra attivati tornano in verticale chi ha edifici adesso può attivarli sempre che abbia conoscenza produttiva a sufficienza il giallo ha il disco in posizione 1 su questo tracciato ciò vuol dire che può attivare uno solo dei suoi due edifici per ricavarne le risorse in questa posizione in questo caso sceglie un'unità e ancora il blu più avanti sul sentiero dell'onore a partire con la fase azioni punta il suo primo campione sulla casella guerra all'inizio è possibile attaccare solo regioni adiacenti a quella di partenza che contengano una pedina fazione il blu sceglie la regione verde in cui attaccare la fazione rossa dei nefriar e il colore della regione a dettare da quale mazzo il giocatore affronterà le battaglie di questa guerra il mazzo verde a sua volta indica sul dorso quali truppi occorreranno per affrontare le prove con maggiore probabilità arcieri in seconda battuta berserker per prepararsi alla guerra a questo punto il blu può reclutare il numero di truppe che desidera questo è il costo di ciascuna per un legno e un ferro recluta un berserker spendendo un totale di due cibo e due legno ottiene due arcieri e la sua conoscenza tattica della fazione nefriar a stabilire quante battaglie dovrà affrontare in questa guerra ovvero quante carte dovrà risolvere per conquistare la regione in questo caso tre se non avesse avuto questa conoscenza le carte sarebbero state 6 la prima battaglia ci dice che per essere superata ha bisogno del sacrificio di un'unità berserker il blu sceglie di non sacrificarla ad ogni battaglia persa si applica la penalità a sinistra della track della fazione il blu perderebbe così una truppa scelta e un punto dominazione se non può pagare la truppa il giocatore cede un ulteriore punto il blu però anche conoscenza difensiva 1 questo lo protegge dalla penalità della sola prima battaglia se fosse sul 2 sarebbe nutelato dalle penalità delle prime due battaglie e così via dunque supera indenne la prima sconfitta e va avanti la seconda battaglia richiede il sacrificio di un arciere e di un berserker che il blu paga stavolta la battaglia è vinta solo in questo caso se presente il giocatore guadagna la ricompensa in basso a sinistra un cibo per il blu per avere la meglio sulla terza e ultima battaglia bastano due berserker con una pietra come ricompensa gliene resta uno sulla plancia ma l'altro può provenire da un capoguerra il giocatore può attivare quanti capoguerra desidera per ottenere in battaglia le truppe in basso a sinistra in alternativa a quelle in plancia il capoguerra così attivati non sono né riattivabili né sacrificabili durante questa era il blu però vuole strafare con un massacro è opzionale spendere anche le truppe in rosso per ottenere l'ulteriore ricompensa di questi punti dominazione la guerra è vinta quando è superata almeno la metà delle battaglie eventualmente per eccesso come in questo caso il blu piazza un suo vessillo sulla regione e collezione alla pedina fazione guadagnandone immediatamente i punti dominazione essendo inoltre il primo conquistatore su fenian ne prende anche la tessera prima conquista con i relativi tre punti in caso di sconfitta nulla sarebbe accaduto con una guerra successiva chiunque può attaccare una pedina fazione in una regione adiacente ad una già conquistata anche da un avversario o collegata ad essa in questo caso però deve potervi navigare solo chi avrà conoscenza esplorativa a potrà attaccare regioni di arbia che avrà conoscenza b anche regioni di breg e così via oltre ai punti di fazione ed eventuale prima conquista all'attaccante andranno anche i punti dell'isola terminata la fase azioni la carta di fine era stavolta è un demone tutti devono scegliere se pagare un oro o perdere cinque punti dominazione poi tutti a turno scelgono se pagare anche il tributo sottostante il drago chiede 3 oro per consentire la conquista di una regione senza guerra sempre seguendo le regole di collegamento e navigabilità stavolta quello che ruota di una posizione in senso orario è l'anello esterno la partita termina alla fine dell'era in cui un giocatore raggiunge i 100 punti o quando non ci sono più pedine in mappa o comunque alla fine della sesta era comunque in ordine di turno ognuno sceglie se eseguire un'ultima azione guerra ai punti ottenuti in partita ciascuno somma quelli di ogni suo edificio questo ad esempio da due punti dominazione per ogni edificio dall'illustrazione diversa posseduto anche i propri vessilli collegati danno punti dominazione ogni gruppo di regioni collegate dal proprietario punti dominazione in funzione del numero di regioni che compongono il gruppo il gruppo di tre regioni dal giallo 4 punti il gruppo di una regione isolata invece 0 punti vince chi ne ha di più o in caso di pareggio chi è più avanti sul sentiero dell'onore faccio il cattivo e parto subito con la nota negativa il regolamento non che sia strutturato male anzi ah ahimè lacunoso mancano a mio avviso alcuni passaggi importanti e gli esempi giusti nulla che non sia risolvibile per logica ma sento già odore di fuck per il resto basta tornare indietro qui sotto di 14 minuti e c'è un tutorial apposta tutto qua quello che non va i materiali sono buoni dai toni scuri evocativi le carte da imbustare ecco se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo alcune miniature non sono in perfetta tolleranza con le relative le basette ma non dobbiamo giocarci a schicchere per il piazzamento vanno bene quello che però mi ha colpito è ciò che conta il flusso di gioco il vulcano coniuga una meccanica straconsolidata in maniera veramente brillante e fa girare tutto il resto come un orologio non solo letteralmente le state per la vittoria sono varie e c'è l'imbarazzo nello scegliere tra poteri di edifici capoguerra divinità certamente tutto ti incanala verso la guerra imprescindibile combattiamo contro nel gioco ma per quanto in diretta l'interazione con gli avversari si percepisce ovunque e poi il sistema di risoluzione del combattimento è veramente una chicca non sarà rivoluzionario ma il classico uovo di colombo introduce l'elemento di incertezza proprio al posto giusto è statistica più che fortuna e il giocatore lo sa occhio che durante il piazzamento i tempi possono dilatarsi ma questo è sempre un problema dei giocatori non del gioco quindi mi rivolgo a noi pensatori pensiamo meno e meniamo di più in fondo siamo barbari mi rivolgo a noi pensiamo meno e meniamo di più in fondo